Nulla da fare per un turista in vacanza da pochi giorni con la famiglia alla Marza che ha accusato un improvviso malore in spiaggia. L'uomo si è accasciato a terra. I presenti familiari hanno tentato di rianimarlo fino all'arrivo del personale del 118, ma il medico dell'ambulanza medicalizzata nulla ha potuto fare per salvare l'uomo dal momento che all'arrivo era già deceduto. E sempre ad Ispica e precisamente a Santa Maria del Focallo invece due donne hanno rischiato di annegare a causa del mare mosso, a scongiurare il peggio la presenza di due militari dell'esercito che sono intervenuti mettendo in salvo le due donne. Sul posto anche il personale del 118.